E questo è un movimento che contribuirà insieme al Partito Democratico a rilanciare la grande battaglia di rinnovamento della Sicilia, in un momento della storia siciliana in cui sempre che i volti del passato vogliono tornare sotto forma di mentite spoglie, addirittura proponendo accordi sotterranei, però sicuramente io non sarò uno di quelli che permetterà il riedo di Sabini Romano nella politica siciliana, abbiamo faticato per rompere ininterrottamente un potere che da 46 in poi ha visto sempre le stesse classi dirigenti e sicuramente impediremo che sul Partito Democratico si faccia un'OPA esterna che tente a riciclare i vecchi uomini del passato perché i protagonisti della Sicilia…